bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video io sono maullo941 e oggi siamo tornati ancora con il nostro gamberetti con il nostro gamberetti signori miei con il nostro morecambe morecambe papa maullo deve cercare l'impresa signori miei portare questo club verso la premier league ovvero verso la champions non so se vinceremo mai niente raga ma l'obiettivo è riuscire a qualificarci per la champions quindi fra 8 mila anni lo dice papa maullo stesso fra 8 mila anni forse arriveremo in premier e forse vedremo le champions l'obiettivo di questa serie per chi non l'avesse mai vista è quello di non giocare nessuna partita raga noi simuliamo tutto anche perché stiamo partendo dalla categoria più bassa della 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 lega inglese e quindi per giocare tutte le partite noi finiremo l'anno prossimo dico non è questa la mia intenzione deve essere comunque una serie veloce infatti vedremo di portarla ogni giorno alle 7 allora ragazzoli noi in questo episodio dobbiamo un attimino capire come siamo combinati con la formazione perché non voglio enormi quantità di giocatori allora noi abbiamo due portieri e stiamo a posto un terzino sinistro quindi dobbiamo cercare un terzino sinistro di riserva in panchina in difesa abbiamo satton e olde che sono i nostri sostituti fanno un po schifo però per quest'anno ci riteniamo a destra abbiamo buxton che è il nostro unico un 57 brutto come pochi a centro campo abbiamo brewitt kenyon aspettate a sinistra abbiamo tone of o taste elison o taste può andare in prestito si vediamo se riusciamo a piazzare o test in prestito all'ultimo momento poi abbiamo elison poi abbiamo wilding di agugura ra tutte e lewis noi fino ad ora abbiamo utilizzato di agugura ra come attaccante sbagliatissima di agugura ra deve essere un centrocampista quindi io direi chi sono quelli più scarsi lewis abbiamo comprato quest'anno tutte rimane per forza poi abbiamo di agugura ra wilding con 63 che non è stato e brewitt quindi 1 2 3 4 e 5 e lewis che è un 61 ok quindi direi io direi che io direi che brewitt è sul mercato perfetto brewitt già è pronto andare via buono così e poi e poi e poi chi potremmo levarci raga potremmo levarci tutto anche lewis se l'abbiamo comprato ma che serve se va nulla questo vediamo un attimino se lo possiamo fare niente niente ce lo dobbiamo tenere lui poi abbiamo dellev sullivan sulla destra e sulla sinistra avevamo già visto tutto a posto tranquillo in attacca abbiamo leite smith stockholm howard e slu quattro attaccanti e con loro dobbiamo farci il campionato allora obiettivo obiettivo andiamo a cercare due un terzino destro e un terzino sinistro vediamo se con la povertà riusciamo a trovare qualcosa in difesa mi serve un td vediamo sul mercato cosa c'è signori miei vediamo intanto sul mercato cosa c'è zero profili trovati perfetto non ci sono tersini destri sul mercato e tersini sinistri così oh ce n'è due ok abbiamo parti min che ha 33 anni ed è abbastanza brutto non è bruttino 170 dai 33 anni un coreano non sembra messo male e quini quindi quindi vale 2 milioni mamma mia contatti scadenza come lo paghiamo quindi niente mi sa che dovranno prendere questo park team in raga allora andiamolo a prendere direttamente chiedi no aggiungiamo al lista preferiti ok e vediamo invece qualcuno sulla destra vediamo se c'è qualche svincolato gli svincolati li abbiamo persi tutti mannaggia di una miseria svincolati vediamo se riusciamo a vedere qualche svincolato sulla destra cosa abbiamo morsi egiziano mamma mia che cosa brutta raj 31 anni un 60 è più forte di quello che abbiamo noi oppure torres torres non sembra male torres o raj chi è più giovane più giovane torres prendiamo torres mamma mia ma torres c'è delle cosa c'è brutto torres tecnica tiro e mentalità e invece l'indiano raggi mi piace di più raggi raga mi sta più simpatico raggi c'ha 31 anni ma tanto lo 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 lista preferiti aggiungi al lista andiamo a prenderci questo raggi raga facciamo un mercato strano è un 63 c'ha 61 si 61 anni c'ha 63 due parole 31 anni dai contatta per acquisto secondo me è meglio sicuro del terzino destro che abbiamo noi in in rosa attualmente che un 59 se non sbaglio o guardate il nostro papo maulo che simpatico che simpatico vuole essere importante vuole uno stipendio da 36 allora importante vabbè accettiamo l'importante in parla accettiamo l'importante c'hai 31 anni zio non ti puoi non ti posso mai c'è 32 anni di tre anni di contratto ti faccio venire a fare la pensione proprio qua ai gamberetti siti ignoriamo la casa la recessoria stipendio hai un'idea di quanto vuoi no allora tu prendi 3 se io te ne do 25 c'hai 31 anni non mi puoi venire a pretendere i milioni qui da noi è un bonus ingaggio di 5.000 mi sembra un'offerta equa per un 31 n raga dico mi sembra un'offerta il mio stessi dopo l'universo la squadra chiede uno stipendio di 2 e 3 a settimana e vogliamo 22 bonus ingaggio allora contro offerta intanto rimuovi bonus zio poi modifica questo di qua equate no modifica questo teneto 20 sei disoccupato devi ha bisogno di lavorare dico veniamoci incontro 26 mamma mia 26 20 va bene andiamo papà mollo è contento va bene abbiamo ceduto le sue richieste raga ma l'indiano e poi andiamo a prenderci park anche park 33 anni guardate che carino dai non è brutto lui però lo dobbiamo andare a comprare contatto per acquistare è vero è vero è vero vediamo cosa riusciamo a fare quella era svincolato abbiamo risparmiato un pozzo di soldi sul sul sull'acquisto allora 170 scambio giocatori vediamo se riusciamo a piazzarli qualcuno centrocampisti che ci abbiamo di veramente brutto brewitt brewitt non lo dobbiamo vendere si lo volete brewitt no attaccante centrocampistola brewitt è un centrocampista vabbè offri per il cartellino andiamo direttamente così lui vuole 170 ne diamo 150 raga sono 9 se si si arrabbiano di brutto siamo lì dico è un 33 n dico ne vogliono 160 con la clausola alla rivendita ma si ma chi se ne frega dai 160 va bene ora andiamo a trattare con lui andiamo a trattare per lo stipendio e così abbiamo i nostri bellissimi due esterni sinistri i nostri due esterni in difesa di sostituto di cambio praticamente che carino mamma mia ma ti ha leccato la testa una mucca praticamente c'hai i capelli tutti attaccati allora vuole essere importante va bene vuole essere importante durata di contratto un anno no facciamo direttamente due anni perché se io dico tre lui dice uno noi facciamo due va bene perfetto due anni clausola recessoria accetta niente clausola recessoria va bene 1 e 7 dopo 5 presenze no questa la rimuoviamo i bonus e 1 e 7 vabbè ora lui a minimo intera sicuramente lo stipendio perché dice ah tu mi hai levato ah beh hanno accettato hanno accettato 1 e 7 perfetto abbiamo i nostri due esterni raga di sostituzione perfetto google se lo possiamo levare togli dalla lista si google se lo possiamo levare perché tanto non voleva venire in prestito questi li abbiamo comprati andiamo allora un attimino a rivedere la nostra formazione signori perché c'è qualche attaccante coi contro va per capirci va perché un attaccante coi contro no un attt tra gli svincolati vediamo se c'è qualcuno di interessante balog ciapa gruwal moses c'hai 30 anni moses ragaval e gundo gundo gondacarra adesso ce l'ha ce l'ha falco patine ci ha fatto 8 stagioni falconero con coi contro a car e mi dico vediamo se ce n'è qualcuno in vendita sul mercato vediamo se c'è qualcosa interessante sul mercato già un paolo pazzini in vendita mamma mia contratti scadenza fra 11 mesi il pazzo sarebbe un grande acquisto raga ma non ce l'abbiamo 1.100.000 non ce l'abbiamo qui siamo un po' mi sa che siamo troppo alti no arlo di uff 950 non ce li abbiamo mai nella vita ma holly ma holly 450 no siamo completamente fuori budget 3.000.000 siamo completamente fuori budget raga niente dobbiamo tenerci gli attaccanti che abbiamo vediamo se arriva qualche offerta per quelli nostri che può andare in prestito anche cosa no dobbiamo avere solamente 4 centrocampisti noi raga non possiamo avere troppi centrocampisti allora bewitt è sul mercato perfetto kainon è il nostro preferito wielding 63 decora 63 tutte 60 gli uist abbiamo ammbrato gli uist che non ci serve una cippa ragazzi miei abbiamo ammbrato gli uist e abbiamo speso soldi inutilmente e allora facciamo se mandiamo tutte in prestito così le va a giocare tutte da un'altra parte così le va a giocare tutte da un'altra parte perfetto concludiamo il mercato raga concludiamo il mercato vediamo se arriva qualche offerta interessante se no mi sa che qualcuno verrà buttato fuori perché io voglio avere i giocatori contati raga anche perché ripeto non punteremo alle partite di coppa le partite di coppa saranno solamente come abbiamo visto la partita col celsi poc'anzi nell'episodio di precedente dico non è qualcosa che ci può interessare offerta per interesse venendo per craston ma craston certo certo ma veramente siete ridicoli rifiuto l'offerta craston non lo possiamo vendere craston è il nostro terzino sinistro titolare e non possiamo vendere ci manca che dobbiamo andare a cercare un altro terzino sinistro per sostituire lui dai 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 concludiamo questo mercato un'altra email vediamo speriamo che sia qualcosa interessante raga offerto per oteist ok prestito di un anno walford perfetto noi l'accettiamo speriamo che oteist l'accetti pure accetto offerta e vado a giocare da un'altra parte c'ha 24 anni devi andare a fare esperienza da altre parti oteist non puoi stare qui con noi non vedeste il campo nemmeno col binocolo quindi dai 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 mi fate un'altra offerta per qualcun altro più che altro oteist accetti quel contratto di prestito oteist ti prego oteist 2 mail 2 mail 2 mail dai 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 2 mail 2 mail 2 mail oteist è andato in prestito e offerta di prestito per tutte la squadra sapporo sapporo che squadra è non si sa tutte tornerai più forte fidati di me tornerai più forte fidati di me tutte tutte tornerai più forte non ti preoccupare buono raga se tutte accettano il prestito siamo messi bene offerta per il prestito di tutto un'altra squadra il mirandes accetta pure vai 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 è richiestissimo tutte tutto è richiestissimo il nostro uomo simbolo che per quest'anno andrà in prestito l'anno prossimo sistemeremo meglio la rosa e rimarrà con noi forse allora fermi tutti ci sono un po' di di mail allora il secondo squadra mensile non ci interessa infortuna in allenamento braxton si è rotto ok due settimane di stop ottimo inizio aggiornamento dell'osservatore vediamo chi ci ha portato il nostro osservatore ci ha portato duncon drummond 65-87 non mi fai proprio impazzire però ti lascio lì poi abbiamo kirk morrison 50-66 tu sei proprio brutto e poi malcolm young 64-88 ti lascio lì perché secondo me non sei proprio malaccio 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 da valutare ragazzini da valutare da valutare lasciamoli lì ok continuare a seguire dalla scuola arrivano giocati interessanti ultima giornata ha rifiutato il contratto prestito ma non ci posso credere tutto ha rifiutato il prestito Delev la ringrazio per avermi ascoltato per avermi mandato in campo prestazione autorevole ti augurerà se non abbiamo vinto sei d'esempio per tutti vecchie chiacchiere che sono rimaste sul sul groppone facciamo questi allenamenti speravo arrivasse qualche giocatore importante ma non è arrivato nessuno chi possiamo far allenare chi possiamo allenare alleniamo Stockholm che diventerà il nostro attaccante di riferimento e deve sapere giocare a calcio Stockholm ok ragazzoli allora detto questo io mi fermo qui per questo video vi ringrazio per aver guardato questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto che darete a questa serie noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao